è vero, 10 era stato Renzi avevo votato pure contro invece ne aveva messi di più lui ma non sono tutte le famiglie e chissò i redditi più bassi scusa ricapitalamo un attimo dunque, de che parlo? perchè non è il più grande intervento sulle tasse negli ultimi 10 anni non son 10 miliardi, son 4 che poi diventano 3 non per sempre son 300 euro per 6 mesi che al mese fa praticamente 3 margherite con l'origano più la marcia al raid ma quindi qua c'è qualcuno che può dirmi de che cazzo so fiera io?